Buongiorno, salve ragazzi, buon venerdì. Oggi sono qui per fare un piccolo resoconto di quella che è la faccenda inerente alla Juventus perché ho notato che negli ultimi giorni in tanti non sono stati d'accordo con alcune cose che ho detto o per dire, per esempio, con la battuta che ho fatto ieri a proposito della plusvalenza di McKennie che, come avevo già chiarito nel momento in cui usciva dalla mia bocca, era appunto una battuta. Qualcuno mi ha consigliato una sorta di ripassino alle norme del diritto, alle norme che vanno a contraddistinguere questa faccenda ma per quanto sia giusto quello che dicono, perché sicuramente tante inesattezze sono uscite dalla mia bocca ci tengo sempre a sottolineare che questa non è la mia competenza, questo non è il mio ambito. Io non ho studiato diritto, non ho studiato legislatura, non ho studiato giurisprudenza non faccio parte di questo mondo. Io sono qui perché amo parlare di calcio e commentare il calcio e queste cose sono entrate di prepotenza all'interno della sfera che preferisco del calcio e quindi dobbiamo parlarne, dobbiamo cercare di far capire che cosa sta accadendo ovviamente sempre all'interno dei limiti della nostra istruzione, della nostra possibilità e quindi io in questo momento voglio raccontarvi quello che credo sia accaduto quello che ho capito fino adesso della questione. Poi che io abbia torto, che abbia ragione ragazzi, ripeto, io questo è quello che ho capito e anche le motivazioni che mi hanno spinto a dire altre cose, a fare altre battute e anche le motivazioni che mi portano a dire in questo momento la Serie B per la Juventus secondo me è un rischio. In questo momento sono preoccupato davvero che la Juventus possa dare in Serie B. E ricorderete i video all'inizio della questione, mi dicevo, ragazzi la possibilità a Serie B c'è ma è remotissima ed è collegata al discorso stipendi. Ecco, sulle plusvalenze ero molto tranquillo, molto tranquillo. E proprio perché ora vi andrò a spiegare per filo e persino quello che credo di aver capito sono molto preoccupato per la questione legata agli stipendi e per la questione legata alla UEFA. La Procura di Torino tra l'altro ha chiesto un prolungamento qualche giorno in più per completare le indagini, lato stipendi. E poi tra un paio di mesi, due, tre mesi parleremo pure di quello. Perché tutto quello che è stato detto fino adesso comunque è a prescindere in esatto? Perché non abbiamo ancora letto le motivazioni della sentenza. Non sono ancora uscite, verranno rese pubbliche da quanto ho capito lunedì. Quindi Juventus si è beccata a 15 punti di penalizzazione, se li porta a casa. Poi dopo ci spiegheranno il perché. Funziona così la giustizia sportiva. Da quel momento Juventus avrà a disposizione, mi pare, 30 giorni per costruire una difesa per fare in modo di farsi togliere questi 15 punti con un ricorso al CONI, ok? Al tribunale del CONI. Che cosa succede? C'è questa sentenza legata alle plusvalenze. Un anno fa, un anno e mezzo fa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Parma e tutte le altre squadre indagate, mi pare, 12 squadre, vengono prosciolte, considerate innocenti perché non ci sono elementi che possano provare effettivamente il valore di un calciatore in sede di mercato e quindi fare in modo di andare a punire queste squadre per le plusvalenze, che sono lecite, sono legali. La cosa che non è consentita è la plusvalenza fittizia e cioè scambiare volutamente un calciatore con un valore di mercato gonfiato per cercare di sistemare il bilancio. Ma come fai a capire se una plusvalenza è fittizia, gonfiata, finta? Proprio perché non ci sono elementi per capire il valore di un calciatore, non c'è un listino presti come quando vai dal barbiere che il taglio costa X, il taglio più il lavaggio dei capelli costa Y, con la cera costa Z, non c'è un listino presti. È tutta discrezione di chi compra e chi vende. Quindi come fai a capire questa cosa? E questa è stata la motivazione della volontà da parte della procura della FIGC di riaprire il caso legato alle plusvalenze. Per Juventus e altre squadre, non tutte le squadre che erano già state indagate, soltanto le squadre che comparivano nelle carte legate alla procura di Torino. Quindi sostanzialmente una decina di squadre contro le 12 iniziali. Juventus è l'unica che riottiene l'apertura del caso legata alle plusvalenze. Tutte le altre vengono praticamente prosciolte con qualche ammenda da pagare, ma di poco conto. Perché invece Juventus ha ottenuto la riapertura del caso legato alle plusvalenze? Perché la procura di Torino si è fatta carico di prove ulteriori che secondo loro andavano a giustificare, sempre questo in via teorica perché non abbiamo ancora letto le motivazioni della sentenza, la creazione di un sistema legato alla Juventus e il modo di dimostrare che Juventus ha creato delle plusvalenze fittissie. Come ha fatto questa cosa? Tramite le intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, che dir si voglia, dove comunque Juventus è stata tenuta sotto controllo per oltre un anno e dove praticamente avevano accesso a tutto. Chiamate, discussioni all'interno degli uffici, email scambiate all'interno di Juventus, quindi fate conto che praticamente tutta la vostra vita da un anno a questa parte viene registrata, sorvegliata e tutto quello che vi inviate tramite la vostra casella email, i vostri messaggi whatsapp viene preso, catturato, spulciato dalla procura che deve accusarvi. Ok. Queste intercettazioni tra l'altro non erano tutte inedite, anzi tante erano già state utilizzate all'interno del caso. Cion però, in Italia non puoi essere accusato due volte per lo stesso reato e quindi da qui a me scatta un attimino la lampadina che ribadisco non solo qui dirvi un'idea geniale, una deduzione geniale, no, è una banalità, a me viene a pensare questo. Poi magari non è nemmeno questo e lo impareremo lunedì dalle carte. Ma dato che non può essere condannato due volte per lo stesso capo d'accusa, mi viene da dire che le plusvalenze sono il tramite con cui è stato riaperto un processo alla Juventus che era già iniziato e che aveva già delle basi, era già stato discusso. Ma Juventus non si va ad imputare la colpevolezza, non si va ad imputare una colpa per via delle singole plusvalenze. Non si va a spulciare giocatore 1, giocatore 2 a quell'operazione di mercato lì, non è stata valida. Si vanno a prendere intercettazioni, si vanno a prendere alcuni pezzi di intercettazione che fanno in modo di far apparire Juventus, apparire non nel senso che Juventus non l'ha fatto, lo scopriremo, ma l'accusa ovviamente deve accusare, far apparire Juventus come se stesse costruendo a tavolino la plusvalenza. Non mi serve farla perché voglio quel giocatore, non mi serve farla perché devo cedere questo giocatore. La voglio fare perché sì, voglio che sul bilancio vada ad apparire questa operazione. E quindi tutte queste intercettazioni sono state utilizzate per dimostrare che Juventus aveva aperto questo sistema, per dimostrare che Juventus effettivamente queste operazioni le faceva soltanto per aggiustare i bilanci. Questo è quello che sto pensando, quindi che non sia la plusvalenza. La plusvalenza non è una colpa, non è illegale. Diventa illegale, poi vedremo il perché secondo l'accusa, perché Juventus avrebbe costruito questo sistema, che è anche un termine abbastanza mafioso per quanto mi riguarda, che andava coinvolgere diverse squadre e che andava a sistemare i bilanci Juventus. Bene, due cose. La prima, credo che le intercettazioni non possano essere utilizzate come prove. Io credo che le intercettazioni debbano essere inserite al fianco delle prove. Io sono in grado di dimostrarti che lui ha ucciso perché ho il filmato di lui che uccide e ti allego a fianco un'intercettazione telefonica nella quale lui dichiarava al telefono di essere stato in quella via in quel momento quando è stata uccisa la persona. Non è che io l'intercettazione di lui che dice io ero in quella via in quel momento quando quella è morta e quella mi diventa la prova. E questo che già è una cosa che mi dà fastidio, oltre al fatto che il processo è stato fatto in un pomeriggio, veramente in un paio d'ore, in cui l'accusa ha discusso e ha chiesto nove punti e poi dopo due ore la Corte ha confermato la riapertura aumentando la pena. Poi ribadisco, leggeremo le motivazioni, perché adesso stiamo parlando del niente. Questo è quello che penso di aver capito e quello che penso che sarà effettivamente. E vi spiego anche il perché queste cose mi danno fastidio. Quindi le altre escluse, perché non c'erano le intercettazioni che diventavano prova per dimostrare che. Perché qua l'accusa aveva la volontà di riaprire dei fascicoli che erano già stati archiviati, Juventus era già stata dichiarata innocente, e allora cosa facciamo? Abbiamo le intercettazioni? Sfruttiamole. Per portare, ovviamente perché l'accusa questo deve fare, le motivazioni dalla nostra parte. A me vengono i brividi a pensare che chiunque possa essere per un anno intero sottoposto a intercettazione per poi utilizzare dei pezzi di quello che ho detto all'interno di un anno come prova per dimostrare qualcosa che voglio far apparire. Vengono i brividi. Perché non è la prova di per sé. Non è il dirigente della Juve insieme al dirigente del Genua che mette a bilancio Rovella e Portanova e si dicono, oh grazie eh, perché questa cosa qui mi serviva per forza per fare il bilancio. Non è questo che sta accadendo, non li hanno colti in fragrante. Non è questo. È semplicemente il fatto che tramite alcune intercettazioni della durata di un anno sono arrivati a dire ah, però qui che cosa hai detto? Ah, però qui che cosa hai saltato fuori? Stiamo parlando solo delle plus valenze eh? Questi stipendi non la stiamo minimamente toccando. Stiamo parlando delle plus valenze. E allora voi direte, ma in che modo quale articolo vai a toccare eventualmente per questa punizione? E vi leggo l'articolo 4 della giustizia sportiva e dice, i soggetti di cui è l'articolo 2, che sono società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza dello statuto, del codice, delle norme organizzative interne FIGC, nonché alle altre norme federali che osservano i principi della lealtà, della correttezza e della proibità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, che è questo che vi ho letto, si abbricano le sanzioni di cui è l'articolo 8 comma 1 lettere A, B, C, G e l'articolo 9 comma 1 lettere A, B, C, D, F, G e H. Ok? Ci siamo? Articolo 8, che riguarda la Juventus intesa come squadra. Cosa rischia, banalmente, cosa rischia la Juve se davvero avrà infranto l'articolo 4? Un'ammunizione, un'ammenda, un'ammenda con di infida e all'ultimo punto la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Se la penalizzazione sul punteggio è inefficace ai termini di afflittività nella stagione sportiva in corso, è fatta scontare in tutto e in parte nella stagione sportiva seguente, quello che è accaduto banalmente la Juve con il meno 15. Invece l'articolo 9 parla di quello che può accadere ai dirigenti, quindi ammunizione, ammenda con di fida, ammenda, ammenda con di fida, squalifica a tempo determinato in ambito FGC, divieto temporaneo di accedere alle impianti sportive in cui si svolgono manifestazioni e gare calcistiche, inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FGC, che anche qua è quello che è accaduto ai dirigenti della Juventus. Quindi, che cosa ha fatto la Juventus per rientrare all'interno dell'articolo 8 lettera G, comma 1 lettera G, quindi penalizzazione di uno per i punti in classifica? Non avrebbe osservato i principi di lealtà e correttezza all'interno delle competizioni in essere. Secondo l'accusa, banalmente, probabilmente, questo sistema Juventus e questa volontà di Juventus di fare delle plusvalenze che sapevano in principio tutte, tutte le plusvalenze che ha fatto la Juventus sapevano in principio che erano fallate, avrebbe annullato il principio di lealtà di questo comma. Però allora c'è un cortocircuito nel ragionamento, che è la cosa che continua a darmi fastidio, che non mi va proprio giù. Juventus viene accusata per una cosa che potenzialmente potrebbero aver fatto tutti. Ogni squadra che ha fatto un'operazione sul mercato, cedendo un giocatore, scambiando un giocatore, acquistando un giocatore, inserendo un valore a bilancio di un giocatore, proprio perché nella prima udienza eravamo risultati innocenti perché non c'è un modo per stabilire il valore di un calciatore, posso banalmente metterlo come pare a me, gonfiarlo come pare a me, inserire il valore che pare a me e nessuno mi può venire a dire niente. A meno che non ci sia un anno di intercettazioni che possano essere utilizzate, secondo l'accusa, nella maniera per arrecarmi un danno. Intercettazioni che diventano prove, non intercettazioni a sostegno delle prove. Queste cose a me mandano nei matti, mi mandano nei matti. Una roba allucinante. Quindi la sensazione che ho io in questo momento è di un processo impacchettato, bello, pronto per la Juventus perché è la prima volta stati assolti, però attenzione, noi ci abbiamo lavorato un anno dietro questa cosa, abbiamo le intercettazioni, possiamo mica uscirne sconfitti. Allora sai cosa facciamo? Andiamo a vedere tutto quello che si sono detti. Proviamo a incastrare, perché l'accusa questo deve fare, l'accusa deve dimostrare la vera ragione. Proviamo ad incastrare all'interno dell'articolo 4 che vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché vuol dire tutto e non vuol dire niente, e cerchiamo di dare dimostrazione che questo è accaduto. La mia sensazione questa è, infatti quando vi dicevo, non posso disdire da zone Sky perché comunque li utilizzo come strumento di lavoro, ma mi piacerebbe contribuire a questo movimento di protesta per far arrivare un messaggio chiaro a chi gestisce i diritti televisivi in Italia, quindi alla Lega Calcio Serie A. È per quello che ho provato la soluzione alternativa tramite VPN di cui vi ho parlato l'altro giorno. Perché è vero che la Lega comunque i soldi da Paramount Plus li va a prendere, ma per tre anni di calcio a Paramount Plus tira fuori 200 milioni di dollari, per tre anni di calcio in Italia da zone Sky e Team tirano fuori 900 milioni di euro, c'è una differenza tra guadagnare 200 milioni e guadagnare nel 927, 930, in tre anni, c'è dicendo che guadagnare 200 euro al mese e guadagnare nel 900 è la stessa cosa. Non è vero, c'è differenza e dato che adesso c'è la discussione sul nuovo triennio di suddivisione di diritti televisivi, secondo me Sky e Dazon con tutte queste disdette andranno a fare un'offerta più bassa alla Lega Serie A per ottenere diritti sportivi, così come Paramount Plus non andrà a fare un'offerta più alta perché loro la fanno più bassa e quindi me li becco io perché loro stanno parlando nel mercato americano, magari Paramount Plus farà un'offerta per il Paramount Plus italiano per andare a prendere quella fetta di mercato. Ma chi lo dice che sarà più alta? È l'unico modo che ha il tifoso per cercare di creare un motivo di disturbo ed eventualmente anche un danno nei confronti della federazione calcio italiana, perché ovviamente la Lega Serie A fa parte della federazione calcio italiana è quella di non pagare più il calcio, di dimostrare che si sta staccando dal calcio. Poi, ve lo dico dal giorno zero di questa protesta, se uno viene qui e mi dice no, io voglio fare la protesta perché così ci tolgono i 15 punti di penalizzazione, per me è una follia, perché non ha minimamente senso, non ha un incrocio, i 15 punti ce li toglieranno eventualmente con ricorso se gli avvocati da Juventus saranno bravi a dimostrare che le motivazioni che leggeremo lunedì sono infondate, che non si possono utilizzare eventualmente le intercettazioni come prova, che ci sono state delle intercettazioni magari messe lì tanto per costruire, sono state decontestualizzate, questa sarà la linea difensiva probabilmente della Juventus. Ma prima dobbiamo leggere le motivazioni, quindi tutto quello che vi ho raccontato io fino adesso è semplicemente quello che crede di aver capito una persona non incompetente in materia, ma che comunque sia informata, sia documentata, ha letto, ha cercato di farsi un'idea. Perché vi dico che oggi però sono preoccupato per la serie B? Perché se davvero è andata così, se effettivamente è andata così e c'è in mano una delle intercettazioni che possono essere utilizzate come prove, soltanto quella frase lì, soltanto quel pezzo lì e poi questa la metto qui e questo taglio e cuccio lo metto lì, allora sugli stipendi aiuto, aiuto, perché già erano richiesti 9, sai cosa ne mettiamo 15 su un articolo che dice tutto e dice niente, ve l'ho letto, abbiamo discusso, sulle plusvalenze io ero abbastanza tranquillo e siamo con meno 15 sulle plusvalenze. Non c'è il regolamento che ti dice che ti mandano in bidiretto, l'abbiamo letto adesso, sugli stipendi magari sì, dobbiamo andarci a rileggere bene l'articolo, ma la mia paura è che con gli stipendi ti diano altri 20-25 punti, sono 40 punti in meno, 35 punti in meno all'interno di un campionato, poi devi salvarti sul campo, se no addirittura retrocedi sul campo. Per questo che vi dico che in questo momento io di escludere la serie B non me la sento, io ho sempre detto ipotesi remota, però se tenono 15 punti sulle plusvalenze dove dovevi sentirti un po' più tranquillo perché era già stato prosciolto, meno che non ci sia questo ricorso che ti va a togliere questi 15 punti e allora poi bisogna incrociare le dita sugli stipendi e sperare che non te ne diano 40, poi c'è da prendere in considerazione anche questa cosa qui, perché magari poi il ricorso della Juve che fa effetto, adesso non so a livello cronologico se ci sarà prima uno o poi l'altro, chi ne è potrebbe non andargli giù e far una richiesta di 30 punti e quindi magari la corte potrebbe dartene 50, che ne sai. Tanto non ci sono precedenti, cioè il numerino quanti punti ti do? Ne voleva 9, ne andati 15, perché la Juve deve arrivare fuori dalle coppe, perché la Juve deve arrivare dietro la Roma, non deve avere la possibilità di rientrare in gioco e quindi se ci rientriamo ce ne danno ancora di più, cioè sono queste cose qui che non digerisco e uno come fa a dirmi, ma cosa c'entra la Lega Serie A, cosa c'entra la Fidici? Ma certo che c'entrano e allora perché mi piacerebbe dimostrare che se vai a punzecchiare così tanto la Juventus? Perché il punto non è non punirla, il punto è tanto quello che vi ho detto fino adesso, ma banalmente, buttare lì 15 punti così, poi vediamo se sono giusti, se sono sbagliati tanto non c'è la possibilità di ridurre la pena, o te la tolgo tutta o te la confermo. A me sembra veramente una volontà, ho questi dati sulla Juventus, ci ho lavorato un anno, ma sai cosa? Ma dai, buttiamoli lì. Non parlo di complotto, non parlo di persecuzioni, parlo però di persone che lavorano all'interno della Federazione Italiana di Gioco Calcio, che stanno veramente impegnando per far sì di dimostrare una tesi per la quale loro hanno lavorato e che magari è infondata, però sai, tramite le intercettazioni posso far apparire che? Da fastidio, da molto fastidio perché anche ieri vi dicevo la carta segreta di tutto sporcio è una carta che può fare invalidare il processo, a me interessa che la Juventus non abbia sbagliato, interessa questo, interessa che il calcio italiano possa arrivare a regolarizzare questo discorso legato ai trasferimenti, che ci possa essere una legge che stabilisce in qualche modo, non so come, ma non è nemmeno il mio pane, non è nemmeno il mio ambito, non è nemmeno la mia preoccupazione, perché dovrebbe interessare a chi gestisce il calcio in Italia di regolarizzare tutte le trattative, ma interessa che il calcio sia pulito e questa sentenza eventualmente non andrà a pulire il calcio in Italia, andrà a punire la Juventus perché? Perché per un anno è stata intercettata. Le altre squadre sono state intercettate per un anno? No, allora non abbiamo la possibilità di applicare lo stesso principio alle altre squadre, se il processo non sarà fatto sulle plusvalenze nel senso del scambio Piani-Ciartur, scambio Cancelo-Danilo, scambio Spinazzola-Pellegrini, non ti stanno contestando quello, ti stanno contestando che questo pezzo di intercettazione di questo giorno ti dice questo, questo pezzo di intercettazione di questo giorno ti dice questo, questo dice questo, li metto tutti insieme, hai creato un sistema, è diventato un mafioso, le altre squadre erano obbligate a darti calciatori, stai violando i principi di lealtà sportiva. Io ripadisco, ho fiducia nella giustizia, spero che faccia il suo corso, spero che Juventus abbia la possibilità di difendersi, spero che Juventus abbia una linea difensiva di ferro che possa sciacquare via questa sentenza, perché per quanto mi arrivano questa sentenza è esagerata per quello che abbiamo a disposizione, e spero anche di essermi sbagliato, ma come spero che nelle motivazioni ci siano delle banalità che vengano annullate dalla difesa della Juve, perché il punto è proprio quello, se Juventus è sbagliato devi pagare, certo che devi pagare, però allora non c'è la possibilità di fare in modo che anche altre squadre che magari hanno fatto questa cosa possano risultare colpevoli, perché? Perché la Juventus è colpevole dato che ha le intercettazioni. Allora forse non stiamo facendo giustizia, quindi questo è un po' il processo mentale che mi ha portato a dire certe cose, a fare certe battute, a dire altro, e anche il motivo per cui in questo momento sono incazzato. Se c'è qualche errore all'interno del ragionamento, e sono sicuro che sarà pieno zeppo di errori questo ragionamento, fatemelo sapere nei commenti, ma senza commenti del tipo vatti a ristudiare, fatti una cultura, spiegatemi il perché. Spiegatemi, è venuto tal dettaglio detto questo, ma non è così, è venuto tal dettaglio detto questo, ma non è così, perché a me piace leggere i commenti, piace utilizzare la community come modo per imparare, migliorarmi e anche correggere eventualmente tiri che per forza di cose devo aver sbagliato all'interno di questi video. Però la sensazione, ed è una sensazione da parte di uno che non ha studiato per fare queste cose, quindi vale meno di zero, io non sono qui a sedere per raccontarvi tutto quello che è accaduto perché non lo so. Non faccio giornalismo in questo momento, non posso farlo, non ho nemmeno la possibilità di confrontarmi, ma anche gli stessi giornalisti sportivi. Io lo sento Romeo che è in imbarazzo perché non è il suo campo, la sento Fabiana che è in imbarazzo perché non è il suo campo. Non parlano di questo, non sono fatti per parlare di questo. Devono farlo e loro ovviamente hanno degli agganci legati alla carriera che fanno in modo che gli spieghino certe cose. Io cerco di fare i miei tanti concetti espressi da loro e ovviamente sono i primi ad ammettere che non ne sanno così tanto della materia. E ripeto, non ci sono ancora le motivazioni, non abbiamo ancora letto il perché. Quindi non è facile. Il film, il percorso mentale che mi sono fatto io però mi porta a pensare che nel caso questo processo è stato veramente impacchettato. E questo non è un modo di fare giustizia per quanto mi riguarda.